Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova reaction, stasera tocca a Torino-Milan dopo la grande impresa di domenica all'Allianz Stadium, che tra parentesi ancora si gode il cammino dei ragazzi non è finito perché appunto abbiamo Torino stasera, Cagliari domenica sono due partite che se vinciamo ci potrebbero dare l'accesso alla Champions League quindi ragazzi sono due partite importantissime io alle ore 20.30 sarò live sul canale Twitch di Milan Inside mi raccomando link in descrizione passate perché anche quando finirà il campionato comunque continueremo a portare altri contenuti e vorremmo includervi in questi contenuti quindi più siamo meglio è io niente ragazzi vi auguro una buona visione di questo edit della reaction vi invito a passare da tutti i nostri social, link in descrizione di lasciare un bel mi piace al video, iscrivervi al canale e anche un commentino che siamo qua a rispondervi quindi ragazzi buona visione ragazzi vi vado a leggere le informazioni della partita Torino-Milan, partiamo dagli ospiti di casa Siri, Guglianco, Bremer, buongiorno Singo, Baselli, Mandragora, Linetti, Rodriguez Bonazzoli, Zazza la formazione dei ragazzi invece Donnarumma, Teo, Tomori, Chier, Calabria Chessi, Benasser, Ciala, Brahim Diaz, Castieco, Rebic Allora, assenza da una parte e dall'altra il Torino che hanno una difesa a pezzi perché non ci sono né Inculu né Izzo lì davanti non parte titolare Belotti ma ci sono Bonazzoli, Zazza da noi invece come ben sapete ragazzi lì davanti abbiamo dei problemini con l'infortunio di Ibra che molto probabilmente ha finito la stagione con Salem Makers che con il giallo procurato sia Torino contro la Juventus ha squalificato per sta partita e deve giocare Samu però ha riconfermato Brahim Diaz trequartista e Cialanoglu invece sulla fascia vediamo come ha la vediamo vediamo e speriamo bene ragazzi e si inizia ragazzi buon Torino-Milan prima palla per noi subito in avanti a cazzo Cialanoglu poteva darla meglio vabbè calcio d'angolo pronto a battere Ciala Cialanoglu palla dentro sul primo palo prova direttamente in porta palla respinta beh utile Calabria prova a riaprirla per Cialanoglu Ciala di prima perché sì che sia ancora Ciala 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 si accentra Ciala prova il tiro respinta aveva mille soluzioni vabbè palla ancora per noi Castieco palla in fascia per Brahim 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 si accentra Brahim si accentra Brahim serve Teo Teo fuori dall'aria Teo prova il tiro Teo Teo Che ciluro ma che gol ha fatto ma che gol ha fatto stupendo stupendo palla Brahim Diaz gliela gioca lui la stoppa da fuori area boom secca sul secondo palo 1-0 che gol di Teo che sì che sì palla al piede che sì palla per Rebic fuori dall'aria Rebic Rebic rientra Rebic prova palla dentro per Castie 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 Calcio di rigore Milan Calcio di rigore Milan Calcio di rigore Milan Calcio di rigore Milan Ragazzi è abbastanza brutto il fallo bravissimo super Rebic super Rebic e qua comunque nettissimo non credo ci siano dubbi posizione di partenza regolarissima Castie si coordina prova a fare qualcosa con le sue gambette da insetto stecco no raga come si no no rigorissimo non voglio guardare la chat che sì contro Sirigu parte che sì che sì contro Sirigu che sì che sì 2 a 0 al venticeiesimo vamos bravi ragazzi bravi 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 c'ha la Noglu error raccio Zazza Zazza palla per Bramere il tiro donna Roma mamma mia bonazzoli la svirgola cosa ha parato Gigio rinnovate il contratto a quell'uomo rinnovate il contratto a quell'uomo Ciala Noglu ha fatto un erroro clamoroso stile Teo Hernandez contro la Samp Gigio la gioca Teo ah Ciala Ciala fuori dall'aria l'ha rigiocata dentro la nostra area Zazza la passa a Bremer miracolo clamoroso di donna Roma Riccardo Rodriguez palla dentro sul secondo palo niente da fare sarà rimessa dal fondo per il Milan ma credo che si chiederà qua il primo tempo esatto finisce così il primo tempo 0-2 per i ragazzi grande prestazione veramente in questo primo tempo qua sono molto soddisfatto per ora arbitro guida sta aspettando la contemporaneità con i campi e si inizia secondo tempo di Torino Milan dai ragazzi ancora così e siamo ancora in difesa bravo che si che anticipo che si che si in aria palla per Brahim Brahim 3-0 e ce l'ho in panchina gol e assist sono un clown sono un clown ce l'ho in panchina al fantacalcio bellissima azione errore da parte del Torino in fase di disimpegno con la palla che si grande anticipo la gioca Brahim Diaz che è completamente da solo palla da una parte Sirigu dall'altra 3-0 Milan e avanza superiore alla metà campo palla per Rebic si avvicina all'area Rebic Rebic in fascia Rebic doppio passo entra in area Rebic rientra ancora una volta Rebic prova a metterla dentro che si che si si divora il gol del 4-0 lavoro immenso di Rebic che doppio passo finta contro finta va sul fondo la mette dentro che si completamente da solo nell'area piccola calcio è riuscito a sbagliarla che si palla per Kier Kier palla per Calabria Calabria avanza Calabria palla lunga anticipato palla per Teo Teo Hernandez avanza palla per Brahim attenzione Brahim palla per Rebic Rebic palla per Teo Hernandez attenzione Teo 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 Foxy grazie per il follo e benvenuto no regà stavo giocando prossimo gol Milan 4-0 doppietta di Teo vamos Kasti cambia gioco per Ciala Noglu Ciala Ciala si accentra Ciala vede Krunic 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 palla per Rebic Rebic il tiro Ante Rebic 5-0 no regà ma a parte gli scherzi ma io volevo giocarlo ma io volevo giocare per due volte lo volevo giocare questo e questo cosa di merda mi ha fatto giocare ero ricco ero ricco ero ricco sarei stato ricco ma dai ragazzi 5-0 che dire ragazzi che dire partita sontuosa palla in avanti si Rafa si Rafa ti prego Rafa ti prego non pisciarlo sei un bastardo 6-0 6-0 assist di assist di Leao per Rebic ma tu Leao dovevi far gol da lì dovevi buttarla dentro raga non è che non esulto cioè mi viene 6-0 ma cosa stiamo vedendo Leao dovevi buttarla dentro per il mio fantacalcio da lì dovevi buttarla dentro per il mio fanta Rebic dov'è Fabio adesso scrivo a Fabio su whatsapp Castieco palla dentro sul primo palo anticipato che sì palla che rimane ancora lì Casti palla fuori per Dalot Dalot prova a metterla dentro sul secondo palo C'è Cruni ce la rimette dentro palla che rimane lì ante Rebic 7-0 ole così tripletta devastante Rebic 7-0 e finisce qua ragazzi Torino 0 Milan 7 7 Milan che in 4 giorni ha segnato 10 gol a Torino e subiti 0 0 grande prestazione nulla da dire cioè cosa si vuol dire il Torino è una squadra abbastanza non pervenuta noi abbiamo fatto il nostro assolutamente più convincenti di così si muore anche perché adesso inizieranno a girare le voci che praticamente il Torino ci ha favorito ha preso 7 peri apposta vabbè comunque ragazzi che dire super partita la Champions si avvicina sempre di più speriamo speriamo tocca ferro fai tutto però altra vittoria importantissima bene così ragazzi